buongiorno benvenuti ciao youtube benvenuti da newmano adams newmano adams e cioè il piccolo gianluca che è un grande appassionato di mano adams guardate adesso guardate va bene adesso stiamo anche caricando un video che fra poco sarà online dove potrete vedere invece un balletto un fatto seriamente con la musica ok? a più tardi amici un saluto da andrea e gianluca alias mano adams